Musica 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 Appunto dietro al backpack di questa skin sono venisse a notare i simboli caratteristici dei Playstation Infatti appunto se non sapete i simboli che vanno a caratterizzare la Playstation appunto Sony Sono la X, il cerchio, il triangolo e il quadrato Infatti questi 4 tasti, almeno 3 di questi sono proprio rappresentati dietro lo zenetto di questa skin Cloud Striker Quindi appunto un piccolo dettaglio ci va proprio a mostrare che questa skin sarà disponibile gratuitamente ed esclusivamente Solamente perché è possessore di Playstation Quindi avrò una skin molto molto bella Invece passiamo poi alla seconda skin che è appunto quella di Indigo Q1 La sua versione normale cioè quella che è uscita dal negozio oggetti già era molto molto bella Ma in questo modo è ancora più bella davvero con questi colori fra il nero e il blu Anche questo ovviamente fa richiamare i colori della Playstation, ovviamente della Playstation 4 e Playstation 5 E appunto questa cosa da ben vedere è davvero molto molto bella Non so quale preferisco fra le due però sicuramente questa qui di Q1 o di Indigo Q1 E' davvero molto molto bella Fai sapere la vostra preferita qui sotto nei commenti Quindi facendo un piccolo riepilogo appunto Chi è che andrà ad ottenere queste skin totalmente esclusive Appunto tutte queste due nuovissime skin le andranno ad ottenere gratuitamente Soprattutto esclusivamente solamente i possessori della nuovissima PS5 PS5 uscirà davvero pochissimi giorni E comunque ho visto che tantissime persone già ce l'hanno in possesso e l'hanno acquistata Quindi se possedete questa console oppure se l'andrete ad acquistare le prossime settimane Barra prossimo mese Potete appunto riscattare gratuitamente queste due nuovissime skin Probabilmente dovrete lo stesso avere il PS Plus Quindi l'abbonamento al PS Plus Quello che vi serve per giocare ai giochi online Come già detto prima Queste due skin saranno per chi ha PS5 Ma una di queste due sarà anche un nuovissimo pacchetto celebrativo per PlayStation In appunto riscattare anche quelli da PlayStation 4 Basterà semplicemente avere il PS Plus Allo momento ancora non ci sa quale delle due sarà un pacchetto celebrativo PS Plus Fate sapere la vostra preferita qual è E soprattutto se possedete PS Plus o PS5 Che appunto serviranno per riscattare queste due skin O una di queste due skin Quindi come ben sapete Forte da ormai pochissimi giorni si è anche spostato sulle nuovissime console di nuova generazione Proprio le next gen Infatti appunto come ben sapete dopo la scorsa parte sono state proprio inserite tutti quanti i dettagli Relativi appunto per Forte su Xbox 3X e 6S E appunto anche per PlayStation 5 Visto che queste Xbox sono disponibili da pochissimi giorni Infatti se qualcuno di voi vuole andare ad acquistare una PS5 Oppure è in possesso PS5 Appunto quelli sono tutti quanti i cambiamenti avvenuti Su Forte per PS5 Quindi tutti quanti i miglioramenti che ci sono stati Infatti su Forte per PS5 si può giocare con la risoluzione 4K a 60fps Quindi appunto potremo vivere un Forte come mai prima d'ora Al valore di livea grafica 4K e la fluidità dei 60fps su PlayStation 5 Poi avremo grafica e fisica dinamica Vivi in un mondo più dinamico e interattivo Poi avremo un'immersione controller DualSense Poi avremo se hai la tua modalità preferita alla schermata principale di PS5 Poi grazie alle nuove console potremo entrare in game più velocemente E poi potremo avere uno schermo condiviso molto migliore rispetto a quello di prima Poi stessa cosa anche per Xbox Serie X Infatti per Xbox Serie X sarà sempre la risoluzione 4K a 60fps La grafica e fisica dinamica La risoluzione 1080p stand fps Poi abbiamo anche tantissimi altri parametri Come entrare più rapidamente in partita e schermo condiviso migliorato Poi sapere voi quale siete andate ad acquistare fra PS5 o Xbox Serie X Oppure non avete acquistato nessuna del 2 E avete ancora la PS4 oppure il PC o qualsiasi altra console Poi sapere cosa ne pensate queste due nuovissime skin Che arriveranno gratuitamente per i possessori PS5 E una di queste due arriverà gratuitamente anche per chi possiede il PS Plus All'interno del suo account Sony Quindi spero che questo video vi sia piaciuto Fai sapere cosa ne pensate di queste due nuovissime skin Se è così quanto vi ricordo di lasciare un bel like Iscrivetevi sull'anale e ti ando la campanella delle notifiche Così se siamo aggiornati su questi tipi video E like ve lo skin a base a taglia Infine a quanti video del suo video ti piace ma fai dare anche a loro Appunto tutte queste due nuovissime skin esclusive In arrivo all'interno di Fortet Noi ci vediamo in un prossimo video e alla prossima live Ciao